Let's go! Lo che voglio dirvi è che ieri sono rimasto veramente amareggiato per quello che è successo e come sapete era più di una settimana che non streammavo, non facevo comunque live su Twitch, questo perché sono stato impegnato a registrare video per la settimana che sono stato a Colonia, poi sono stato a Colonia quindi non ho potuto streammare. Sono tornato a streammare e voi mi avete accolto ragazzi in una maniera incredibile, abbiamo superato due giorni che ho streammato più di 1500 persone live, abbiamo fatto il record con la streaming mi pare dell'altro ieri, quindi sono contentissimo di questo caso, il fatto che comunque vi piaccia quello che state guardando, quello che sto facendo, il fatto che io voglio portare qualcosa di diverso, voglio portare il competitive quando gioco a Call of Duty e non pubblico, anche se porto anche quello ogni tanto. Io vi ringrazio tantissimo, però quello che è successo ieri è stata veramente una cosa incredibile, praticamente sono stato butterato per ben due volte, lo stesso modo Mazzo è stato butterato una volta, per chi non sa cos'è il butterare è praticamente dossare DDoS, cioè mandare pacchetti al router, quindi alla connessione di una persona, fino a farla crashare, cioè mandarlo offline, perché arrivano troppi dati. Esistono modi per bloccarli, sono molto costosi e a volte non consentono di performare al meglio, se io mettessi per esempio una protezione VPN non potrei streammare ovviamente, è una cosa bruttissima perché non so cosa ha contro di me la gente, cosa gli ho fatto di male per fare queste cose, sinceramente ci rimango male perché mi sto solamente sbattendo tantissimo per far diventare questo mio sogno una realtà e quindi voi mi state aiutando tantissimo e vi ringrazio il fatto che ieri sono tornato live, c'erano 200 persone in streaming quando ero crashato con 1600 e queste 1600 persone sono ritornate di nuovo in streaming a vederlo, quindi vi ringrazio tantissimo e la cosa che più mi dispiace è che queste persone che fanno così più che altro si fanno vedere, come posso dire, buttano solamente fango su cosa è questa community, il fatto che questa community si basa sull'invidia, sul cercare di accapararsi più cose possibili per se stessi, su cercare di approfittarsi delle altre persone, sul cercare di screditare gli altri, facciamo così, cercare di screditare gli altri per prendere il loro posto, è una cosa tristissima, quindi spero che, non lo so, queste persone che hanno questa cosa contro di me la smettano, io faccio questo messaggio qua su youtube per farvi capire che c'è un motivo se tante volte mi sono incazzato e ce l'ho con questa community per molte cose, perché molte volte mi hanno screditato, molte volte si sono inventate storie su me stesso, false, molte volte hanno proprio fatto di tutto perché comunque stavo andando abbastanza bene, per cercare proprio di farmi cadere e tante volte anche per invidia penso, il fatto che comunque tante volte sono stato chiamato dall'Activision a fare cose speciali, cose uniche, come per esempio quando sono andato a Parigi a giocare l'evento degli all-star europei contro quelli americani, in cui abbiamo giocato i quattro giocatori comunque considerati all-star d'Europa contro quattro giocatori considerati all-star dell'America, in cui tra l'altro ho performato benissimo e mi hanno lanciato per quella che era la mia carriera in un team mestre su Black Ops 3. Allo stesso modo mi sono sbattuto tantissimo su Call of Duty e all'incirca da Call of Duty 4 che gioco la modalità competitiva, quella MLG, quella De Certo, quella che comunque con i settaggi competitivi, ho cercato di portare all'Italia, l'abbiamo scoperta io e un mio amico, Ronke, che giocava in clan con me tanti anni fa nei Rev, e questo, come posso dirvi, sta a significare il fatto che io lo sto facendo per passione, tante volte mi hanno accusato anche di fare YouTube perché volevo circondarmi di gente che mi acclamasse e mi osannasse, e molte persone non hanno mai capito che quello che sto cercando di fare su YouTube è un qualcosa che forse nessuno sta facendo, sto a porto video di Competitive per far conoscere l'esporto di Call of Duty, come allo stesso tempo tratto altri giochi che secondo me sono degni di nota, e molti di questi giochi sono tutti giochi competitivi, avete visto quando ho giocato a CSGO, facevo le streaming, avete visto che portavo Overwatch e porterò Overwatch, e così via. Allo stesso modo su YouTube non voglio fare solo YouTube per far conoscere l'esporto, ma anche per portare qualcosa di innovativo, di bello, e secondo me una cosa dei miei video è il fatto proprio dell'originalità, del fatto di ciò che dico io, che viene tutto dalla mia esperienza da giocatore professionista di Call of Duty, dal fatto che sono sempre in contatto con quelli che sono i maggiori esponenti di Call of Duty, anche esteri e americani, il fatto che ho contatti con questi giocatori, perfino negli Optic, perfino nei TK, nei Liquid, eccetera, eccetera, e molte volte venire accusato di essere un approfittatore, venire accusato di essere, come posso dirvi, di fare queste cose per farmi acclamare dalla gente, le persone non capiscono che quello che sto facendo è solamente perché mi piacerebbe che l'Italia fosse come gli altri paesi europei, io ho viaggiato molto, sono stato a contatto con persone estere, sono stato, ho vissuto, diciamo, se si può dire, la vita all'estero con altre persone all'estero, e la mia mentalità, diciamo, che è cambiata in questo modo, e quello che sto cercando di fare è cercare di portare magari un aspetto come il gaming, o comunque delle sport, in questo caso anche in Italia, e magari non ci riuscirò, però magari sarò uno dei fautori, e sono contento di questo perché ci sto provando tantissimo, lo vedete voi dalle streaming che faccio, dai video che porto, il fatto che comunque pure quando faccio un video di pubblica, sotto al video di pubblica c'è sempre un consiglio, un qualcosa, che uno può usare magari quando va a fare competitive, è quello, è sempre quella sottile cosa, quella cosa velata, e mi dispiace che succedano queste cose in cui le persone, per cercare di fermarmi, di bloccarmi, non so, di scrivere una cosa, forse per invidia, forse perché gli sto sul cavolo, forse è un divertimento quello che stanno facendo, mi fanno queste cose, l'avete visto, sono stato aggrato, ho avuto problemi con il booter, booter nel senso la gente che mi tossava la connessione tantissime volte, mi è capitato, l'ultima volta che mi è capitato durante un torneo, ed è stato veramente brutto, mi è capitato, quando giocavamo, io giocavo nei killer fish, assieme a torres, the real e t1, e dovevamo giocare contro i sublime, liquid.sublime, e la gente, mentre stavamo vincendo la prima mappa, hanno cominciato ad adossarmi, seconda mappa stessa cosa, ed è un fatto increscioso questo, perché chi fa queste cose, non solo va a compromettere una partita magari fair, ma allo stesso modo va proprio a instillare un'amarezza, una tristezza, e il fatto che io non mi fido più di nessuno ormai, perché in tutti questi anni, chi mi conosce di più di questi anni, chi mi segue da MQ3, sa tutte le cose che mi sono successe, sa tutto quello che ho fatto, sono sempre stato trasparente, non mi sono mai nascosto, l'ho sempre detto in pubblico comunque, le cose che mi sono successe, e sa quanto ho lottato con questa cosa, sa quante voci false sono state messe in giro, sa quante volte ho aiutato persone per poi prendermi calci in culo, e il fatto che ora mi trovo in questa situazione, in cui mi sto, ora praticamente non ho più contatti con le vecchie persone, mi sto, sto con un nuovo gruppo di persone, se così possiamo dire, di amici, gioco a diversi giochi, porto video su Call of Duty, vado, faccio l'analista della God War League, e anche dopo tutto questo, il fatto che non mi interesso più di altre cose, mi faccio prendimenti cazzi miei, se si può dire, da un anno più o meno, forse due, cosa è successo, ha portato queste persone ancora a divertirsi, a fare queste cazzate da bambini, e è inutile augurare cose brutte a queste persone, perché mi sa che non succederanno mai, però, beh, quello che vi voglio dire è che mi dispiace, sono amareggiato ora, oggi non avevo nemmeno intenzione di fare un video, per molti di voi che pensano che questo è un pesce da bene, non è un pesce da bene, non lo voglio fare, perché ci sono rimasto veramente male ieri, e il fatto che, come posso dire, il fatto che sono così amareggiato non mi dà nemmeno voglia di giocare, di fare qualcosa, mi lascia veramente con una tristezza dentro, specialmente il fatto perché mi piace fare competitive, ora non lo sto facendo a livelli altissimi, professionali come un tempo, non gioco più a livelli, mi alleno contro il team della God War League, ma allo stesso modo, ora soggiorno con Ivan, Relix, Ajax, Mazzo, e tutti gli altri ragazzi del nostro team, l'ama pure, eccetera eccetera, sto giocando con loro perché è una cosa che mi diverte, mi piace fare, non gioco ovviamente per opportunismo, per altre cose, perché come vedete, quando faccio una streaming, e magari Alberto non la fa, o Ivan non fa un video, o cose del genere, su quello a cui stiamo giocando, non è che c'è uno degli altri ragazzi che viene a mettere un like, un commento, io lo metto perché mi piace magari il video, e ve lo voglio far vedere o far rivedere, e allo stesso modo la streaming, nessuno la rispamma, perché noi stiamo giocando per divertirci, se uno poi vuole streamare, lo fa tranquillamente, nessuno sta giocando qua, perché deve prendere la fanbase, perché deve cercare di avere il calcio in culo, in questo caso d'Alberto, che è quello più conosciuto e famoso, il fatto che ci sono gente che pensa questo, è veramente triste, perché non mi sono sempre fatto il culo da solo, su YouTube, su Twitch, nella mia carriera da giocatore professionista, nella mia carriera da analista, mi sono sempre fatto un culo enorme, per sbattermi, sono andato contro, diciamo, contro quello che mi dicevano i miei parenti, contro quello che mi succedeva, ho cercato sempre di mantenere un profilo abbastanza alto, di sbattermi veramente, pure quando mi allenavo, eccetera, eccetera, e molti non ci credevano in quello che stavo facendo, molti non ci credevano, nemmeno io ci credevo, ma alcuni risultati sono arrivati, il fatto che sono uno dei pochi giocatori a essere, se non l'unico, a essere andato a giocare in team esteri degni di nota, di aver fatto risultati degni di nota all'estero con questi team, e penso di essermelo meritato dopo tutte queste fatiche, allo stesso modo sono sponsorizzato da vari sponsor, questo grazie comunque ai numeri di YouTube, ai numeri dello streaming, ma anche a quella che è la mia carriera da giocatore, e il fatto che io mi sono sbattuto così tanto in tutta la mia carriera, capito, e vengo in questo caso castrato, se così si può dire, bloccato, emarginato, come si può dire, sto cercando i termini, comunque sminuito, eccetera, eccetera, da altre persone, e che provano comunque a farmi degli sgambetti, in questo caso veramente cattivi, si può dire dei tackle sulla caviglia in pieno, è veramente brutto, quindi è per questo che faccio questo video, perché spero che capiate che ciò che lo faccio, e lo sto facendo per passione, perché voglio portare qualcosa di nuovo, perché mi piace quello che sto facendo, perché essendo stato all'estero, ho visto com'è questo mondo da un altro punto di vista, essendo stato con altre persone, spero che anche voi, magari prendiate la mia strada, magari un giorno ci sarete voi, e ci sarò io a fare l'analista delle vostre partite, perché al momento non ci sono italiani nella God War League, o queste cose, spero magari che un giorno questa possa diventare un vero e proprio lavoro fisso, e che possa magari, non lo so, spero magari di poter lavorare in questa industria, in degli eventi, eccetera, perché mi piace tantissimo ragazzi, spero che un giorno riuscirò a trovare il modo per raccontarvi quello che provo, e quello che succede a questi eventi, com'è essere lì, com'è stare con quelle persone, io comunque vi saluto ragazzi, ci siete più tardi per il secondo video, spero vi sia piaciuto questo video, è una chiacchierata un po' particolare, quindi spero vi sia piaciuto, non c'è nessuna musica di sottofondo, e niente, spero vi sia piaciuto, let's go guys!